. Qual è stata la causa del malore di Giovanni Ciacci a Ballando con le stelle? . Giovanni Ciacci, esperto di tendenze, ha avuto un malore durante una puntata di Ballando con le stelle dove partecipa come concorrente in coppia con Raimondo Tudaro. . Due sabati fa, Ciacci si è sentito male appena uscito dallo studio, un malore dovuto a un forte sbalzo di pressione dopo l'esibizione. Ma in un'intervista su Oggi, Giovanni Ciacci, rivela che il vero motivo del suo essersi sentito male è un altro. L'ansia? . La gente scrive a Ciacci. Ma tu lo sai che balli anche per me. Per questo lo stilist si è sentito addosso una responsabilità di un certo peso e si è fatto prendere dall'ansia. . Giovanni Ciacci. Il malore a Ballando con le stelle è dovuto all'ansia, .in Un'intervista su Oggi, Giovanni Ciacci afferma. Eccola l'ansia. Mi sono sentito nudo, debole. . Io sono un timido emotivo, anche per questo ha accusato il malore di due puntate fa. . Ora però non ho più paura di portare sulle spalle i dubbi di tanti ragazzi che hanno bisogno di non sentirsi soli. Obesi, bullizzati, incapaci di ammettere la vera identità sessuale. . Ciacci sentiva una responsabilità talmente importante tanto da farlo agitare a quel punto di a sentirsi male. . Io non volevo rappresentare nessuna categoria, soltanto me stesso. E invece mi sono trovato investito di una grossa responsabilità dice ancora Giovanni Ciacci. . Giovanni Ciacci voleva lasciare Ballando con le stelle.Lostilist Giovanni Ciacci aveva manifestato la voglia di lasciare Ballando con le stelle, e di voler parlare con la conduttrice Millie Carlucci.